Il nostro processo è semplice e collaudato. Progetto strutturale e web marketing, progetto grafico, realizzazione tecnica del sito, produzione dei contenuti testuali e visivi, pubblicazioni e test. Analizziamo insieme al committente gli obiettivi commerciali e in base a questi disegniamo l'architettura delle informazioni per il sito. Questo lavoro iniziale permette di produrre siti semplici e finalizzate le necessità aziendali. Quando l'azienda ha approvato il progetto strutturale si passa al progetto grafico. Gli elementi emersi nella prima fase e l'immagine coordinata aziendale rappresentano le linee guida per la presentazione di soluzioni creative e di elevata qualità visiva. La terza fase consiste nella realizzazione tecnica del sito. In base a quanto emerso nel progetto si adotteranno le tecnologie più adatte HTML, Flash, PHP, Ajax. Sviluppatori esperti realizzeranno soluzioni in linea con le norme e gli standard di qualità più elevati. Esperti di scrittura per il web lavorano con l'azienda per redigere pagine in grado di catturare l'attenzione e di rendere piacevole l'esperienza del navigatore. Si producono tutti i contenuti, testi e immagini che guidano i visitatori agli obiettivi commerciali. Vengono eseguiti vari test sui programmi di navigazione più comuni, come Explorer, Mozilla, Safari. Il sito viene quindi collaudato e pubblicato. A questo punto iniziano le attività di promozione del sito, con il posizionamento sui motori o le campagne di pubblicità online. Ma questo è un altro argomento. Se ti interessa, vedi il modulo specifico. Se vuoi maggiori informazioni sulla pubblicazione di un sito, contattaci, senza impegno. Puoi utilizzare il modulo in basso.